Buonasera e benvenuti a Giovedicenza, primo appuntamento del nuovo anno, primo appuntamento dopo le feste, durante le feste molti magari hanno mangiato e bevuto in abbondanza e questa sera noi parliamo di cibo, ma non tanto di diete che magari sarebbe il caso di seguire in questo momento, ma di cucina, dei processi che si svolgono per la preparazione dei cibi che mangiamo. Ma prima di introdurre l'ospite di questa sera è il momento della notizia o delle notizie scientifiche della settimana e del commento del nostro Piero Vianucci. Buonasera, buonasera a tutti. Mi hanno riservato la poltrona rossa, mi hanno detto. Sì, andiamo a occupare le poltrone. Caro Piero, che cosa si è riservato alla scienza questa settimana? Ci sarebbero molte scelte interessanti da fare, ma ne farei due, una velocissima perché è di casa nostra e una un po' più approfondita che non è di casa nostra ma è davvero molto curiosa come storia. Ho sbagliato domanda perché dovevo chiederti che cosa hai cucinato per noi questa sera? O me la gioco oggi oppure... Io attiro allora l'attenzione tua e di tutta la platea su questa cravatta che è più sgargiante di quelle che di solito indosso e che sono molto normali. È molto chiara in realtà. Questa è molto chiara e forse non si distingue, ma è una cravatta con il sistema periodico. L'ho messo in onore naturalmente del conferenziere di questa sera che ci parlerà, è un biochimico e poi ci parlerà di biochimica del cibo e della cottura del cibo, ma è una cravatta secondo me speciale anche per un altro motivo, perché questa cravatta me l'ha regalata Livio Berruti, campione olimpico 1960 su 200 metri piani e lui era un chimico, è un chimico, per fortuna si può dire ancora è un chimico, anche se poi nella vita non l'ha fatto questa professione. È stato questo straordinario campione che tutti sappiamo, poi si è occupato di comunicazione, come facciamo noi qui adesso. Livio Berruti quindi è colui che mi ha donato questa cravatta e io lo metto qui in onore del nostro conferenziere Dario Bressanini. Allora, le notizie. Le notizie. Le notizie. La prima notizia è di casa nostra, è stato scoperto un nuovo pianeta, il secondo, intorno a Proxima Centauri. Proxima Centauri è la stella più vicina al nostro sistema solare e ha 4,3 anni luce. I pignoli dicono 4,28 anni luce da noi. È più vicina di Alpha Centauri che è leggermente 4,5, 4,6, però fa parte del sistema di Alpha Centauri. Mentre l'Alpha Centauri è molto luminosa, si vede dai cieli australi, Proxima Centauri non si vede a occhio nudo, ci vuole almeno un telescopio per vederla. Però lì in tonno è già stato trovato un pianeta nel 2016. Ed è il pianeta più vicino alla Terra che si conosca, l'altro pianeta non solare più vicino alla Terra che si conosca. Ora se ne è trovato un altro e l'ha trovato Mario Damasso, dell'osservatorio astronomico di Pino Torinese. Quindi questa è una scoperta di casa nostra. Proprio a due passi da qui, tra l'altro. E non l'ha fatto da solo, l'ha fatto anche con un altro ricercatore non italiano. Però la cosa interessante è che questa notizia era già filtrata un anno fa, ma non era sicura. Adesso è stata annunciata ufficialmente sulla parte online della rivista Nature. e questo pianeta è stato scoperto osservando per 17 anni delle levissime variazioni di luminosità di questa stella. È un pianeta sei volte più grande della Terra, distante più o meno come Marte dal Sole, un pianeta probabilmente ghiacciato, perché Proxima Centauri è una stella rossa molto debole e quindi a stento il pianeta più vicino potrebbe essere un pianeta con acqua liquida e acqua ghiacciata. Questo è sicuramente solo un pianeta di acqua ghiacciata. L'altra notizia, l'altra notizia si avvicina un po', ci porta abbastanza nel tema di questa sera, perché parleremo di cibi, parleremo di verdure, vedo che ha in mano un libro che parla di verdure. Così svegliamo anche questo. La scienza delle verdure. Ecco, non dovevo? No. Va bene. La prossima volta ci mettiamo d'accordo meglio. Sì, ma poi per la parte web facciamo l'editing della... Correggiamo tutto. Nasce l'internet delle piante in qualche modo, l'internet dell'agricoltura, ma nel senso che gli utenti di questa rete sono le piante stesse. La cosa curiosa è che per la prima volta un'azienda, una start-up ormai piuttosto sviluppata, hanno una cinquantina di dipendenti che si chiama Plant E, olandese, è riuscita a collegare una pianta via satellite con un trasmettitore e con dei sensori che trasmettono dati attinenti alla pianta, senza utilizzare energia estranea, se non quella che la pianta stessa produce. Cioè la pianta crea l'energia necessaria per entrare nella rete. E nella rete possono entrare tutte le altre piante della stessa piantagione o di altre piantagioni ancora. E d'ora in poi potremo attraverso satellite sapere come stanno queste piante, se hanno bisogno di, per esempio, di essere innaffiate di più o di meno, se ci sono dei parassiti che le stanno minando, se la produzione agricola procede secondo le attese oppure no. E quindi vedete che il i campi stanno per animarsi, stanno per diventare dei campi in cui ogni singolo organismo vivente, ogni pianta, interagisce con le altre e ci informa di quello che sta facendo. E come funziona? E chiudo. Funziona così che quello che hanno scoperto, o meglio applicato, perché si sapeva, alla Planet E, questa azienda, questa start-up olandese, è che il primo strato umido del terreno funziona come un catodo di una batteria. E la parte inferiore, dove ci sono le radici e dei batteri che metabolizzano, utilizzano, si cibano dei prodotti della pianta e a volte anche delle sue stesse radici, questi invece costituiscono l'anodo. Cioè abbiamo una pila, abbiamo una batteria costituita dalla pianta stessa, dallo strato umido del terreno intorno alla pianta e dalla zona intorno alle radici della pianta, dove ci sono questi batteri che liberano degli ioni, cioè degli atomi, che hanno perso degli elettroni e che quindi possono chiudere un circuito, un circuito virtuoso, che produce corrente elettrica. Questa corrente elettrica può alimentare i sensori della pianta, che dicono come la pianta sta, e un piccolo trasmettitore che collega subito tutti questi dati con il satellite, con la rete satellitare. E quindi d'ora in poi gli agricoltori faranno un mestiere molto diverso. Se questa cosa attecchisce, e attecchisce è la parola giusta da usare, ecco, se questa cosa attecchisce, beh, vedremo un'agricoltura veramente straordinaria. Quindi batteri per le batterie. Batteri per le batterie, sì. Bene, direi che possiamo non andare oltre, almeno per quanto riguarda quello che dico io, ma possiamo introdurre il nostro ospite. Il nostro ospite è un chimico, lui ha fatto un anno di dottorato a Berkeley in California, e questo è un dettaglio importante per la conferenza di questa sera. È duro che è bravo. È bravo sicuramente, ma è anche un bravo divulgatore, un bravo insegnante, perché è docente all'Università del Suovo, il Como. Beh, giudicare il pubblico. Giudicherà il pubblico, infatti. E che dire, lui ha un canale YouTube molto seguito, è titolare di un blog sulle scienze molto seguito, ha un profilo in Instagram molto seguito. Il nostro amichevole chimico di quartiere, Dario Bressanini. Eccolo! Eccoci qua. Non vado a insegnare così, di solito. No? No, no, no. Potrei, potrei, però di solito. Questo è il mio costume di scena. Ci spieghi cos'è? Forse non si riesce a inquadrare, magari, sì. Questo è il mio camici da chimico, perché ogni tanto qualcuno mi vede e mi dice ma perché fai finta di essere un medico? Ma no, io sono un chimico, i camici da chimico sono diversi, sono più spessi di quelli dei medici. Però l'ho abbellito con uno stemma del Shadow. Tu sai sicuramente che tra la fine degli anni 60 e la fine degli anni 70 c'è un'organizzazione importante che combatté contro l'invasione aliena, il comandante Strecker, e infatti non ci sono alieni qui perché abbiamo vinto. E quindi io ricordo questa cosa. Io tra la fine degli anni 60... Tu non eri ancora nato, lo so. Io sì, io sì, ma è di sicuro... Eh sì, si ricorda il Tenente Ellis, base luna, il Tenente Ellis con i caschetti verdi. No, viola. Ma non parleremo di questo. No, non parleremo. Ma che cosa c'entra la chimica con la cucina? Allora, la cucina è chimica. Ogni volta che noi facciamo una ricetta, che noi cuociamo, anche facciamo bollire della pasta, noi stiamo facendo avvenire tantissime trasformazioni fisiche, ma anche tantissime reazioni chimiche, che ne siamo consapevoli o meno. E quindi, lo diceva anche Gualtiero Marchesi, Gualtiero Marchesi diceva che la cucina è chimica inconsapevole, e poi sta al cuoco a farla diventare arte. Quindi io mi occupo della prima parte, cioè il capire quello che succede quando noi cuciniamo una salsa, quando facciamo una bistecca, un arrosto, una bagna cauda. Quindi non mi ritengo un cuoco, anche se mi diletto, e nei libri ci sono anche delle ricette, diciamo, scientifiche, cioè in cui cerco di spiegare ogni singolo passaggio. Però appunto, il messaggio principale che voglio mandare con i miei video, i miei libri, le cose che scrivo, è appunto che la chimica è ovunque, e soprattutto nel cibo. Quindi i piatti che mangiamo sono esperimenti. Che si mangiano, esperimenti che si possono mangiare alla fine. Questa è una frase che dice lui, e la dice nell'introduzione, se non sbaglio, del suo libro, che è l'ultimo per adesso, tra gli altri, di questa trilogia dedicata alla scienza in cucina. Io prima ho detto che il dettaglio del dottorato a Berkeley è importante per la conferenza di questa sera, perché tu hai studiato la chimica dei cibi. No, non proprio. Io, il mio settore di ricerca, questo che stupisce molti, non è la chimica alimentare, io sono un chimico fisico teorico, io mi occupo di meccanica quantistica, cioè le mie pubblicazioni scientifiche sono di tutt'altro. Però ho iniziato, mentre ero a Berkeley a fare il dottorato, ero da solo, la prima volta che sono stato spedito lontano da casa, non c'era più la mia mamma o la mia nonna che mi preparavano le cose, non volevo andare a mangiare alla caffetteria dell'università, che era pessima, andare al ristorante fuori non potevo, costava troppo, ero squattrinato, e quindi mia mamma mi spediva per posta, quella vera, con la carta, non c'era ancora la posta elettronica, mi spediva le ricette che era solita fare, io ho iniziato a seguire le ricette, all'inizio non mi venivano, quindi il ragù, la polenta, il coniglio arrosto, e lì ho cominciato a chiedermi, ma perché in questa ricetta c'è scritto, scaldare a fuoco lento, perché in questa altra c'è scritto sfumare con un po' di vino, non mi spiegano mai nulla i libri di cucina, e quindi sono un chimico, cerchiamo di applicare la chimica anche lì, e quindi è stato lì che ho iniziato a vedere la cucina come un grande laboratorio chimico casalingo, facevo quindi i miei esperimenti, che si potevano mangiare, li portavo in dipartimento, li facevo anche assaggiare, perché volevo avere un giudizio esterno. E quando non riuscivano bene gli esperimenti, probabilmente invocava la meccanica quantistica e il principio di indeterminazione. Però non è come il gatto, che ogni tanto è morto, ogni tanto è vivo, quindi il ragù viene sempre bene. Però non dici quando il coperchio è chiuso, potrebbe essere cotto o meno. Ma poi alla fine se uso un termometro, anche se è chiuso, lo riesco a misurare. Perché tu dici che le ricette di solito ci dicono il cosa, cioè che ingredienti bisogna prendere, ci dicono il quanto, quanto di ogni ingrediente, magari non sempre preciso, quanto basta, però insomma lo dicono. Il come, cioè come mescolare gli ingredienti, ma quasi mai ci dicono il perché. Il perché, sì. Ed è quello che invece... Sì, perché la stragrande maggioranza delle ricette, tranne quelle magari inventate negli ultimi anni, si sono accumulate con l'esperienza, con le prove e riprova, con l'esperienza di milioni, diciamo così, di cuochi inconsapevoli o meno, dall'inizio, da quando abbiamo inventato il fuoco. E quindi non c'è mai stata, fino all'arrivo della scienza moderna, o della chimica, e poi della chimica moderna con l'Ottocento, non avevamo proprio gli strumenti culturali, gli strumenti scientifici, per capire esattamente cosa sta succedendo. E tuttora ci sono delle preparazioni, o delle reazioni che avvengono in cucina, che sono estremamente difficili da replicare in laboratorio. Cioè, in un laboratorio di chimica, noi lavoriamo con delle ricette, in un caso si chiamano ricette anche quelle di chimica, ma con delle sostanze pure, poche, controllate, in una temperatura controllata. Ed è per questo che, dal punto di vista chimico, la pasticceria si avvicina molto, perché la pasticceria usa, di solito, pochi ingredienti, di solito puri, o comunque di composizione molto stabile. Cioè, il saccarosio, lo zucchero è puro al 99,9%, l'albume è sempre quello, 10% di proteine, 90% di acqua. E quindi, analizzare il ricetto di pasticceria si può fare, infatti, è molto più affine la chimica. Se io adesso vado a, devo cercare di fare un modello in laboratorio, non so, dello stracotto d'asina al barolo, cioè non è proprio una cosa che si riesce a fare, e quindi si tratta di mettere insieme piccoli pezzi, piccoli ragionamenti, studi fatti, non so, vado a vedere qual è l'effetto del vino generico, che poi di solito non usano il barolo negli studi, sulla marinatura della carne, poi vado contemporaneamente a vedere cosa succede magari con le spezie aggiunte, sulla cottura, e quindi si cerca di mettere insieme una ricetta scientifica, come la chiamo io, andando a prendere pezzi che a prima vista sono separati. Una volta mi sono un po' occupato di queste cose in un libro che era Le macchine invisibili, ed era scienza, in tre camere e cucina, c'era la cucina, mi ero imbattuto in un modello di maiale, sai che si cuoce a volte il maiale tutto intero, che era stato ricostruito da un ingegnere come un cilindro con quattro piccoli cilindri attaccati, che sarebbero le zampe, e un cilindro sottile che era la coda. Quindi era idealizzato, era un modello, un modello di maiale ad uso del chimico fisico che in cucina deve fare questi lavori. Non aveva previsto le spezie, perché avrebbe complicato, perché ha reso molto più complesso tutto l'esperimento. Però il termometro, la temperatura interna, è riuscita a prevederla. Loro hanno questi termometri, queste sonde termiche che sono molto lunghe, che possono misurare la temperatura all'interno, perché molte volte loro vogliono tenere una certa temperatura al centro, e un altro in un altro punto dello stesso pezzo di carne o di quello che stanno cucinando. Bene, questo modello permetteva di prevedere con una certa precisione la temperatura, sapendo che si tratta di maiale, ovviamente, che non era per esempio un cilindro di platino. Ma allora, visto che abbiamo molta carne al fuoco... Bella, questa è proprio bella. Pensavo in un effetto... No, no, è bella, è bella. Questa poi la tagliamo sempre sulla versione online. Io darei la parola a Dario Bressanini e lo farei partire con quello che ci ha preparato. Va bene, poi ti chiamo quando abbiamo... Quando sarà il momento, perché questo libro è qui non solo per dire che è uscito che è in vendita all'ingresso del teatro, ma anche perché avrà un uso pratico qua sul palco. Esattamente, esattamente. Va bene, allora andiamo a iniziare. Dario Bressanini. Vi darò le spalle, ma sono abituato a fare lezione in piedi. Allora, qui ci sono io con il mio camice di scena, diciamo così, perché è quello che... Chi di voi mi segue su YouTube sa che lo metto quasi sempre, specialmente quando devo fare degli esperimenti. Allora, lì ci sono i tre libri che ho pubblicato della collana che io chiamo La scienza in cucina. Uno dedicato alla pasticceria, uno alla carne e il terzo che è appena uscito alle verdure, agli ortaggi. Globalmente sono 720 pagine e non ho ancora iniziato, ma lo farò, spero, a trattare dei legumi, dei cereali, della confetteria, della pasticceria avanzata e così via. Quindi questa non sarà una conferenza in cui vi do delle ricette o vi... dedicata a un singolo argomento, mi piaceva invece sfruttare gli argomenti che ho trattato nei vari libri per farvi vedere prima di tutto che davvero perché dico che la cucina è chimica, perché sapere che avvengono delle reazioni chimiche può servire nella vita, nella cucina di tutti i giorni senza essere dei chimici. E poi vi voglio far vedere come un chimico, uno scienziato in generale, vede, si approccia alla cucina, che ragionamenti fa per magari modificare delle ricette o per inventarne addirittura di nuove, cosa che appunto negli ultimi dieci anni in giro più o meno per il mondo ci sono state alcune collaborazioni che sono nate tra scienziati, chimici e cuochi. Allora, inizio con una cosa che può sembrare comune e lo è, perché è una pentola che ho messo sul mio fornello per cucinare la pasta. E questo è l'esempio che ho deciso di utilizzare per iniziare il discorso di vedere la cucina come un laboratorio chimico, come un laboratorio scientifico. E' fondamentale per gli scienziati prima di tutto essere curiosi, guardare le cose, vedere, anche se magari un certo fenomeno, un certo oggetto l'abbiamo avuto davanti per tantissimi anni, a un certo punto è necessario porsi delle domande. Lo scienziato curioso è quello che si fa delle domande, perché poi dopo solo se si fa delle domande riesce a trovare delle risposte. E questo è un esempio di una cosa che abbiamo magari osservato tutti i giorni. Prendiamo una pentola, la riempiamo di acqua, la mettiamo sotto, la mettiamo sul fornello, accendiamo il fornello. Vedete, vediamo se vi è, ecco, che ci si formano delle goccioline d'acqua. Adesso io non so se, di sicuro l'avrete notato, tanti di voi, magari qualcuno di voi si è anche chiesto perché. Ecco, questa è la cosa fondamentale per uno scienziato, chiedersi il perché delle cose. Allora uno può cominciare a fare delle ipotesi, e fa degli esperimenti e osserva meglio il fenomeno e vede che se io prendo una pentola d'acqua, la riempio d'acqua del rubinetto, la lascio lì, ma finché non accendo il fornello, finché non accendo il fuoco sotto, le goccioline non si formano. Allora accendo il gas e nel giro proprio di un secondo, due al massimo, cominciano a formarsi queste goccioline. Quindi ho un'informazione in più, ragiono, e la risposta molto semplice è che nella combustione del gas, il metano nel mio caso, si forma anidride carbonica e acqua, quindi vapore d'acqua. Quindi nella reazione chimica che sta avvenendo nella combustione si forma del vapore che a contatto con la superficie fredda del metallo raffreddato dall'acqua che c'è dentro condensa e quindi queste goccioline sono semplicemente il risultato della combustione del gas. Magari qualcuno di voi non ci ha mai fatto caso, ecco, però questo è un esempio di una cosa che noi abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e magari non ci avete mai fatto caso, ma se proseguiamo nel riscaldare l'acqua della pasta a un certo punto qualcuno di voi sono sicuro avrà notato che all'interno quando l'acqua però è tiepida non è ancora calda siamo molto molto lontani dai 100 gradi quindi magari a 40 gradi o poco più cominciano a formarsi delle bollicine delle bollicine interne vedete? E anche qui una cosa che magari avete notato è uno si chiede perché questo è lo spirito che voglio trasmettere anche partendo da una cosa così semplice un po' di ragionamenti magari studiando e andando a vedere così nelle pubblicazioni scientifiche nei libri se qualcuno si ricorda beh questo uno potrebbe dire potrebbe essere vapore d'acqua però tocca l'acqua e dice no è tiepida non può essere l'acqua che sta bollendo queste bollicine rimangono fisse sul fondo fino a che ogni tanto qualcuno si stacca ecco queste bollicine per esempio sono aria e sono dei gas quindi azoto ossigeno un po' di carbonica che sono normalmente presenti nell'acqua e che quando noi scaldiamo l'acqua non riescono più a essere disciolti l'acqua normalmente ha dei gas disciolti e quando cominciamo a scaldare a un certo punto questi tendono ad andare ancora nella fase vapore quindi a un certo punto questi cominciamo a scaldare quando raggiungiamo i 50-60 gradi questi si staccheranno completamente questa è una cosa che uno dice vabbè abbastanza inutile da punti di vista della cucina però per esempio è importante se uno vuole iniziare a produrre del ghiaccio completamente trasparente di quelli che trovate magari solamente nei locali che fanno cocktail ecco questa non è l'unica cosa che bisogna fare ma è fondamentale perché il ghiaccio quando noi lo mettiamo nel freezer di casa e lo tiriamo fuori è opaco non è bello trasparente come quello delle pubblicità o dei locali perché? perché contiene delle impurità e le impurità oltre a essere i sali disciolti sono anche i gas quindi un passaggio fondamentale per produrre del ghiaccio trasparente non è l'unico è per esempio quello di far bollire l'acqua e poi di farla raffreddare poi a un certo punto cosa succede? quindi potrei andare avanti e fare una conferenza solo sull'acqua che bolle della pasta ma evitiamo però a un certo punto l'acqua bolle la temperatura di ebollizione dell'acqua diminuisce con l'altitudine lo sappiamo se siete in alta montagna l'acqua bolle a temperature inferiori e grossolanamente all'inizio della salita verso la montagna ogni 300 metri di altitudine la temperatura di ebollizione diminuisce di un grado e questo è un pezzo di carne che può servire per un roast beef l'ho chiamato roast beef perfetto mi collego al discorso di prima cioè parlare di temperature la temperatura è un parametro fondamentale nella cucina noi quasi tutto quello che noi mangiamo lo cuociamo mangiamo anche tante cose crude ma in realtà la stragrande maggioranza delle cose in tutte le civiltà del mondo delle culture gastronomiche si sono sviluppate attorno al fuoco e al cucinare e il controllo della temperatura è assolutamente fondamentale per tante cose ma soprattutto per gli alimenti che contengono tante proteine perché le proteine si comportano sono molto delicate e ci sono certe temperature che bisogna raggiungere e altre che non si deve superare questa è vi faccio vedere appunto che cosa può guardare uno scienziato un chimico osservando la cottura della carne quindi io ho fatto un esperimento la scienza si fa c'è la parte teorica ma ci sono anche gli esperimenti quindi ho preso dei cubetti ho preso sette cubetti di carne a sinistra vedete che c'è l'ho lasciato scritto crudo e li ho cotti a temperature via via più alte fino ad arrivare a questo che possiamo benissimo chiamare suola di scarpe si vede benissimo prima di dirvi quali sono le varie temperature e spiegare perché 55 è la temperatura che si ritiene essere abbastanza buona o se non ottimale per il roast beef vi faccio vedere che cosa bisogna guardare qui vedete che di sicuro possiamo notare un cambiamento di colore quello che vi dicevo prima ci sono delle reazioni chimiche in particolare il colore è dovuto a una proteina che si chiama mioglobina che pian piano si trasforma e da cruda diventa che ha un colore appunto rosso pian piano diventa rosato e fino ad arrivare a questo colore grigio marrone però possiamo notare anche altre cose possiamo notare il fatto che davanti a questi due cubi di carne io ho fatto l'esperimento ho cotto questi cubetti di carne in un bagno d'acqua a temperatura controllata con un secondo termometro poi l'ho tolti e li ho raffreddati e poi li ho tagliati in due perché ci interessa la cottura interna ecco tagliandoli vedete che davanti a questi due escono i succhi cosiddetti succhi della carne cosa che invece non ritroviamo qui davanti poi quello che notiamo è anche la consistenza vediamo che qui adesso facciamo un volo d'uccello e poi dopo facciamo un ingrandimento qui vediamo che si vede proprio visivamente che è ancora morbida la carne che non si è compressa ma qui vediamo che le fibre della carne sono tutte molto compresse e si vede proprio visivamente che questa è carne molto asciutta allora vi faccio vedere un ingrandimento ecco vedete qui abbiamo i succhi quindi quando ho tagliato la carne sono usciti questi succhi questa che è una temperatura intermedia vedete che non è ancora visivamente molto compressa però non sono usciti dei succhi è ancora umida qui non si riesce a vedere quindi se io mastico questo pezzo non lo sento secco però non è così succoso come questo allora tenete presente che la carne qualsiasi pezzo di muscolo normalmente è circa il 20% di proteine e una percentuale che è attorno al 75 70-75% di acqua poi il resto sono grassi e non ha praticamente carboidrati quindi quando noi mastichiamo della carne cruda noi abbiamo il 70-75% di acqua però non è che se mastichiamo la carne cruda escono dei succhi non esce dell'acqua normalmente invece questo questo foto questo esperimento ci dice che se cuociamo la carne a queste due temperature sono le temperature a cui l'acqua uscirà che la sentiremo più succosa in bocca perché noi mastichiamo e escono i succhi qui abbiamo ancora la carne rosa è ancora umida dentro ma non è così succosa e se andiamo avanti vediamo che visivamente si comprime la carne perché è assolutamente è molto asciutta e non ci sono succhi allora adesso vi metto le temperature queste sono le temperature che ho usato quindi a scalare di 5 gradi vedete che a 60 gradi che è la cottura che è quella che normalmente più o meno viene chiamata cottura media ed è la cottura cui io consiglio di non oltrepassare mai per esempio se si vogliono cucinare delle bistecche ci sono dei ristoranti di sicuro per esempio negli steakhouse americani non è previsto che voi chiediate una bistecca ben cotta vi fanno uscire dal ristorante e vi dicono no non ve la faccio la bistecca non si può cuocere oltre queste temperature ma se noi la vogliamo succosa quindi se vogliamo che escano i succhi questa 50-55 sono le temperature in cui si riesce a ottenere un roast beef che è rosa all'interno è morbido perché vedete che non si è ancora compresso ed è succoso quindi si prende quel pezzo di carne e si infila dentro un termometro il termometro è uno dei migliori amici in cucina e costa veramente pochissimo si fa adesso non sto a spiegare la ricetta si fa una rosolatura esterna perché vogliamo anche che la parte esterna sia rosolata quindi per tutta una serie di motivi che ormai non abbiamo più tempo per spiegare il forno è meglio tenerlo a temperature più basse e alla fine otteniamo un roast beef che dentro è succoso è morbido è rosa e ha quella temperatura l'esterno è dovuto vogliamo invece facciamo la rosolatura se usiamo quelle temperature così basse in una padella per esempio perché vogliamo innescare un'altra reazione chimica molto famosa soprattutto da quando è stata citata da Masterchef una volta ho ricevuto un sacco di persone che sono arrivate dopo averla sentita a Masterchef citata e quindi hanno googlato hanno scritto cercato reazione di Maillard che è questo signore che era un medico chimico francese che in realtà non stava studiando le bistecche ma stava studiando la decomposizione il fatto che il latte in polvere diventasse sempre più scuro col tempo nelle razioni militari e quindi lui ha studiato questa reazione che è quella che dà poi l'aroma del pane l'aroma della bistecca dell'arrosto odori diversi secondo il tipo di carne del tipo di pesce che è dovuta a una reazione chimica a un gruppo di reazioni chimiche tra alcuni zuccheri che sono presenti negli alimenti il ribose per esempio nella carne di bovino e dei residui delle proteine questa è una reazione che noi facciamo e prima c'erano delle reazioni che erano regolate dalla temperatura ci sono delle reazioni chimiche che noi possiamo far avvenire volontariamente aggiungendo delle cose aggiungendo delle sostanze chimiche questo è un altro esperimento preso sempre dal libro in cui prendiamo delle patate prendiamo delle patate e le facciamo bollire in acqua vedete che ci sono quattro cubetti i due cubetti più a sinistra sono la patata cruda tagliata i due cubi invece a destra sono il cubo bollito in acqua a cui ho aggiunto due cose diverse vedete che nel primo caso abbiamo la patata che ha i bordi sempre tutti molto netti non si è non si è sfaldata mentre la seconda si è sfaldata allora cosa ho fatto? questo è l'effetto dovuto al pH dell'acqua all'acidità dell'acqua in particolare l'ho esagerato e quindi ho aggiunto all'acqua di cottura della prima patata dell'acido acetico cioè in realtà dell'aceto che contiene questa formula questa molecola con questa formula e sotto invece invece di pH acidi ho voluto utilizzare dei pH alcalini o basici come diciamo noi chimici utilizzando un po' di bicarbonato questo in realtà potrebbe anche non essere necessario perché in molti acquedotti in Italia l'acqua viene erogata più o meno a pH 8 che è più o meno il pH che possiamo ottenere con del bicarbonato non in tutti quindi se siete abituati a cuocere delle patate ovviamente dipende anche dal tempo di cottura dalla varietà di patate e da altri fattori però lasciando tutto il resto invariato questa è la differenza che si ottiene con un'acqua acida e un'acqua alcalina allora questo può essere utilizzato perché per esempio io in un'insalata di patate io voglio mantenere le patate cotte ma con i profili belli netti che non si sfaldino e quindi magari posso aggiungere un po' di aceto nella cottura quindi sto facendo avvenire una reazione chimica quest'altra che invece posso volere sgretolare parzialmente devo stare attento a non cuocere troppo e non aggiungerne troppo di bicarbonato veramente mezzo cucchiaino in un pentolone e per esempio a me serve per fare quelle che io chiamo le mie patate scientifiche che ognuno ha un modo diverso di farle ho fatto delle storie su Instagram visto che ci davamo prima di Natale e probabilmente chi di voi qualcuno di voi ha fatto le mie patate ecco vedo un po' di braccia alzate che ho fatto vedere come per esempio si può ottenere delle patate sfruttando questo meccanismo chimico che siano morbide dentro perché facciamo una precottura non troppo lunga perché non le vogliamo spappolare ma croccanti fuori quindi abbiamo aggiunto io ho aggiunto un pochettino di bicarbonato in modo tale da cuocere e sfaldare un po' leggermente la parte esterna in modo tale che ci sia questo amido che si sta staccando bruttissimo da vedere infatti la mia amica fotografa che faceva le fotografie si ha detto no io non te la faccio questa foto del libro perché sono brutte da vedere abbiamo dovuto insomma discutere un po' dicendo ma non mi interessa che siano le foto belle le foto nel mio libro devono essere funzionali alla spiegazione ma secondo me è riuscita comunque benissimo a fare una foto poi si prendono queste patate bisogna stare attenti a non mescolarle perché altrimenti facciamo un purè che è un'altra cosa aggiungo un po' di olio le faccio saltare le metto in una teglia e poi le metto in un forno a temperature infernali in modo tale che tutto questo amido che si è sbriciolato che sta attaccato in realtà diventa questa crosticina favolosa infatti su Instagram poi sono stato bombardato di messaggi dicendo che sono le patate al forno migliori che abbia mai fatto questa quindi è una cosa molto semplice quindi il messaggio che uno porta a casa è in generale aggiungere degli acidi a non solo le patate ma questa è una cosa che succede anche con i legumi se noi vogliamo cuocere dei fagioli se noi abbiamo aggiungiamo degli acidi magari direttamente oppure aggiungiamo per esempio il pomodoro che è acido e i fagioli rimarranno duri per ore per esempio se invece questo è un vecchio trucco che è scoperto in modo empirico aggiungiamo del bicarbonato o lasciamo a mollo nel bicarbonato dei fagioli questi si ammorbidiranno più facilmente oppure i ceci è una cosa che si può fare per altre cose poi ci sono delle reazioni chimiche che avvengono che non sono totalmente sotto il nostro controllo e non abbiamo bisogno di aggiungere niente e tantissime reazioni chimiche per esempio sono scatenate dalla famiglia il genere allium cioè quindi la cipolla i porri l'aglio l'erba cipollina che hanno questi odori molto forti molto caratteristici dovuti alle molecole che contengono dello zolfo alcune volte queste reazioni chimiche che vengono scatenate da degli enzimi producono anche delle colorazioni strane che a volte allarmano questa è invece è una colorazione che io ho voluto ottenere con dell'aglio che in realtà è una ricetta di una ricetta tradizionale cinese che utilizzano questo trucco di prendere dell'aglio tenuto in frigorifero per un po' poi bucarellato e messo poi nell'aceto e diventa blu questo colore verde blu nel giro di poco tempo a qualcuno di voi magari sarà capitato per sbaglio preparando tritando dell'aglio specialmente se si mescola con la cipolla o facendo delle cose vedere dei cambiamenti di colorazione che spesso allarmano beh non è niente di allarmante ci sono delle reazioni chimiche la chimica dell'aglio è bene conoscerla se noi vogliamo utilizzarlo perché l'aglio c'è a chi piace e a chi no c'è chi l'aglio lo fa cotto ci sono delle ricette che prevedono un trattamento specifico dell'aglio cioè perché in alcune ricette si dice di schiacciare grossolanamente uno spicchio d'aglio e buttarlo buttarlo dentro nella padella in altri casi si dice di tagliare la fettina in altri casi di sminuzzarlo io per esempio per certe cose uso uno spremiaglio proprio per distruggerlo distruggere la struttura completamente beh è fondamentale perché in questa maniera indirettamente controlliamo queste reazioni chimiche dovute a un enzima particolare che si chiama allinasi con due i e io devo sempre dire ai miei editori guardate che non è un errore due i una dopo l'altra nelle molecole capita ecco allora l'aglio crudo intero non danneggiato non sa di aglio così come la cipolla cruda intera non danneggiata non ammuffita se le hanno usate non sa praticamente c'è veramente un lieve sentore d'aglio i sapori e gli aromi forti si sviluppano quando noi tagliamo la cipolla addirittura la cipolla ci fa lacrimare e la stessa cosa succede con l'aglio perché succede questa cosa perché l'aglio contiene tantissime molecole solforate cioè che contengono dello zolfo che viene preso dal terreno dalla pianta e contiene una molecola che si chiama allina che non ha nessun odore non ha assolutamente nessun odore ma nel momento in cui noi cominciamo a tagliare l'aglio o schiacciamo l'aglio lo danneggiamo liberiamo un enzima che è quello che dicevo prima un enzima è una proteina che fa avvenire delle reazioni chimiche quindi che si chiama allinasi e prende l'allina e la trasforma in tutta una serie di reazioni chimiche molto molto veloci nelle molecole che a chi piacciono a chi no sono caratteristiche dell'aroma dell'aglio poi in realtà la natura non ha sviluppato questo tipo di meccanismo perché noi potessimo usare l'aglio nella bagna cauda ma in realtà è la guerra chimica dei vegetali contro i parassiti immaginate il piccolo mammifero il piccolo roditore che va in un campo di aglio cipolla selvatica che la addenta gli animali possono scappare dai predatori le piante no e quindi questo animale si vede bombardato di queste molecole che sono urticanti danno fastidio quindi la prossima volta magari ci pensa un po' invece alcune di queste sostanze che sono di fatto dei pesticidi naturali a noi piacciono e li utilizziamo in cucina come possiamo utilizzare questa conoscenza? beh ci sono delle ricette che per esempio prescrivono di cuocere l'aglio prima di schiacciarlo o di tagliarlo di cuocere l'intero nel latte alcune volte ma si può fare benissimo anche in acqua oppure io in una ricetta che c'è nel libro faccio tostare gli spicchi direttamente in una padella perché succede? perché questo altera la chimica dell'aglio e anche della cipolla un altro modo in cui si può fare questa cosa è per esempio metterlo intero in un microonde perché l'allinasi questo proteina è sensibile al calore come vi dicevo e quindi può essere distrutta facilmente se noi la riscaldiamo oltre a una certa temperatura quindi quando noi buttiamo una testa d'aglio intera per esempio nell'acqua che sta bollendo e la lasciamo lì per un po' beh questo enzima viene distrutto perché la temperatura si alza quindi quando poi andremo a tagliare o schiacciare l'aglio non c'è più nessun enzima che può trasformare l'allina nelle molecole che caratterizzano l'aroma di aglio crudo ci sono sempre queste composte solforati che hanno comunque un odore ma hanno un odore diverso e in questa maniera l'aglio addirittura risulta quasi dolce perché l'aglio contiene anche degli zuccheri e ci sono delle ricette che addirittura utilizzano una quantità spropositata di aglio se venisse utilizzato crudo ma poi ma viene trattato in questa maniera o in realtà arrostito e poi in realtà si spalma come se fosse quasi una crema dolce quindi l'utilizzo di queste cioè della conoscenza di questi enzimi può servire per per così decidere che tipo di intensità dare all'aglio quindi più lo taglio più lo sminuzzo quindi se prendo una ricetta e prendo uno spicchio d'aglio lo schiaccio con una pressa ho la liberazione massima dell'enzima se invece lo schiaccio leggermente con un coltello o lo taglio in due per esempio ci ne libererà molto meno parlando di enzimi gli enzimi sono utili agiscono in tantissimi altri casi e un caso in cui agiscono gli enzimi è il pomodoro il pomodoro ha anche lui una chimica molto complicata ma l'aroma anche qui l'aroma del pomodoro fresco che noi sentiamo avviene si slibera nel momento in cui noi lo tagliamo il pomodoro quindi un pomodoro intero non tagliato crudo ovviamente ha un odore di pomodoro ma l'odore tipico di pomodoro fresco ce l'abbiamo solamente quando noi lo tagliamo questo aroma non rimane a lungo per cui se voi dovete preparare una caprese a casa e una volta che lo tagliate c'è un enzima particolare un altro enzima che agisce sui grassi presenti sono pochissimi ma ci sono dei grassi insaturi l'acino linoleico l'acino lino lenico presenti nel pomodoro e trasformano questi acidi grassi in aromi che noi associamo al pomodoro fresco però durano una mezz'oretta quindi se nel bar sempre sotto casa quello che vi ha fatto anche il roast beef grigio perché la cotta a temperature troppo elevate vi ha preparato la caprese alle 8 del mattino e voi la mangiate a mezzogiorno e non ha questo bello odore di pomodoro sapete perché quindi a casa preparatelo al momento mi sembrerà strano ma ci sono scienziati che studiano la conservazione delle verdure e hanno scoperto che se io prendo un pomodoro maturo succoso magari preso dal giardino che ho o magari me l'hanno regalato e lo metto nel frigorifero e ci sta per più di due giorni al massimo tre dopo tre giorni questo enzima viene completamente distrutto per cui poi anche se lo porto fuori dal frigorifero e taglio il pomodoro lo riporto a temperatura ambiente perché mangiare il pomodoro freddo non va bene ma comunque gli aromi sono persi per sempre quindi noi ci lamentiamo spesso diciamo ah le verdure di una volta e i pomodori di una volta sapevano di pomodoro le mele di una volta e incolpiamo l'industrializzazione il miglioramento genetico a volte è vero è verissimo per esempio che molte varietà di miele moderne sono che sono state sviluppate apposta per rispondere al mercato cioè a tutti noi che poi andiamo a fare le nostre scelte quando compriamo le cose al supermercato le mele di adesso per esempio sono molto meno aromatiche molto meno profumate delle mele degli inizi del novecento ecco questa è una cosa accertata perché? perché il miglioramento genetico il mercato ha richiesto mele per esempio sempre più croccanti quelle tipo la pubblicità delle dentiere io adoro le mele farinose e ormai sul mercato non si trovano praticamente più perché il mercato ha richiesto queste mele quindi sviluppando delle mele sempre più croccanti l'aroma anche a volte in modo casuale è andato perso nei pomodori invece il problema è nostro quanti di voi quando comprano i pomodori magari d'estate quindi magari li comprate addirittura li trovate nell'orto o nel mercato in cui sapete che non sono mai stati messi in frigorifero li portate a casa e invece di tenere le temperature ambiente e mangiare nel giro di due o tre giorni perché poi rammolliscono troppo li mettete in frigorifero ecco se li mettete in frigorifero e poi dopo li tirate fuori dopo due o tre giorni una settimana se non stanno di niente la colpa è vostra cioè è nostra perché? perché non sappiamo a volte dove mettere le cose nel frigorifero ecco quindi il pomodoro se avete la fortuna di averli belli maturi belli aromatici prendeteli e mangiateli subito e al massimo potete tenerli un giorno la ricerca scientifica ha detto gli esperimenti che vengono fatti sia in laboratorio ma poi prendendo anche degli assaggiatori ovviamente perché non tutto si riesce a fare in un laboratorio cioè sempre a volte a volte è obbligatorio l'aspetto umano cioè la persona che alla fine assaggia un prodotto e dice dal suo giudizio parlando di acidi parlando di grassi prima ho citato degli acidi grassi insaturi allora noi chimici per noi chimici i grassi sono di categorie diverse se l'avrete sentito sicuramente il nome è acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi prima ho citato due acidi due grassi che sono presenti nel pomodoro e anche in altri ortaggi che contribuiscono all'aroma quindi l'acido linoleico e l'acido linolenico i grassi o gli oli diciamo per un chimico un olio è un grasso che è liquido a temperatura ambiente poi quale sia la temperatura ambiente dipende se vivete in Tanzania o a Courmayeur però dal punto di vista chimico sono tutti uguali non c'è una differenza sostanziale tra lo strutto e l'olio di girasole ecco se voi prendete un'etichetta di un olio diciamo al supermercato adesso trovate anche la distinzione vedete qui ci sono in 100 millilitri ci sono 92 grammi di grassi non c'è praticamente nient'altro di cui dice 11 grammi saturi 26 grammi sono monoinsaturi di acido oleico di solito e 55 grammi di acidi grassi polinsaturi questa è una tabella presa dal libro in cui ordino alcuni oli alimentari grassi alimentari vedete la prima striccia di verdolino ci dà gli acidi grassi saturi poi quelli monoinsaturi che è l'acido oleico di solito e poi quelli polinsaturi vedete che l'olio di cocco è 92 abbiamo lo strutto che è 49 l'olio di palma è 52 più o meno come lo strutto e così via un chimico per un chimico gli oli non sono tutti uguali in realtà neanche per un cuoco perché alcuni oli a seconda della composizione dal punto di vista della calorie sono tutti uguali non esistono gli oli dietetici un grammo di olio qualsiasi olio sono 9 kilocalorie quindi non cambia niente però la componente di acidi grassi saturi o polinsaturi o monoinsaturi può influenzare e dovrebbe influenzare il modo con cui noi li utilizziamo per cui per esempio in pasticceria quasi sempre si devono utilizzare dei grassi saturi quindi il burro o i vari sostituti la margarina l'olio di palma è stato utilizzato per quello lo strutto il burro di cacao perché? perché deve essere quasi solido o solido a temperatura ambiente per fare tutta una serie di cose c'è qualcuno che prova a fare la pasta frolla mettendo l'olio di mais però è un altro campionato come si dice non c'entra niente per carità sarà pure buonissimo ma ha una struttura tecnicamente fisicamente proprio diversa è una cosa diversa quindi c'è un motivo se bisogna utilizzare i grassi saturi per fare certe preparazioni di pasticceria così come oli che contengono tanti grassi polinsaturi come l'olio di girasole l'olio di girasole non andrebbero utilizzati per friggere perché si degradano molto velocemente e quindi a meno che sia per esempio l'olio di girasole alto oleico e vanno bene per esempio per preparare delle maionesi e così via vabbè qui non ho tempo di parlare della salsa di pomodoro vi spiego solo questo titolo nel libro c'è un capitolo con la ricetta di tutte le salsi di pomodoro possibili quindi non una sola perché ognuno di voi ognuno di noi fa una salsa di pomodoro in una maniera diversa vi sarà capitato assaggiarla a casa di un amico al ristorante ognuno la fa diversa perché la fa diversa sempre con gli stessi ingredienti perché nella preparazione della salsa di pomodoro ci sono tantissimi passaggi intermedi che influenzano il sapore finale e a partire dall'utilizzo del tipo di vegetale quindi si fa il soffritto classico di cipolla ma magari si fa anche con l'aglio oppure perché no con i porri e la temperatura a cui si butta dentro l'aglio o la cipolla è nell'olio e influenza le molecole che può produrre come vi dicevo prima se noi grattugiamo per esempio la cipolla con una grattugia fine oppure la tagliamo grossolanamente produciamo delle molecole diverse gli enzimi che vi dicevo prima del pomodoro agiscono anche qui allora non è la stessa cosa utilizzare l'olio d'oliva come quasi tutti in Italia usano oppure che ne so un olio di semi che è più ricco di acidi grassi polinsaturi che davano quell'aroma di pomodoro oppure dall'altro lato un grasso saturo un soffritto fatto con il burro per esempio quindi ci sono tantissimi tantissimi bivi tantissime scelte che uno può fare nella preparazione della salsa di pomodoro per cui alla fine seguendo il libro seguendo i vari step se uno va a vedere tutte le combinazioni possibili di strade ottiene decine di migliaia di salse di pomodoro diverse io invito appunto a provare non ce n'è una migliore di altra a seconda dell'uso che volete farne o del vostro gusto però invito a provare a volte un bivio diverso per arrivare a una salsa diversa è per questo che gli ho dato questo numero questo nome è un po' strano perché la combinatoria la teoria di combinatoria in matematica studia insomma il numero di oggetti che posso ottenere secondo certe regole anche qui vi dico solamente che questa è un'altra cosa che ha stupito all'inizio quando ho scritto il mio libro sulla pasticceria perché tra gli ingredienti fondamentali della pasticceria nel libro traccia gli ingredienti cioè gli zuccheri perché ne usiamo più di uno usiamo il saccarosio usiamo il fruttosio il glucosio vari tipi di saccarosio colorato poi utilizziamo le uova poi utilizziamo le farine e poi l'ultimo capitolo è dedicato a un ingrediente che è fondamentale in pasticceria ma normalmente non c'è nei libri non è trattato esplicitamente perché noi non lo aggiungiamo pesandolo direttamente che è l'aria o comunque i gas noi usiamo tanti gas e di sicuro vi viene in mente ovviamente quando noi aggiungiamo del lievito di birra per esempio o il lievito madre o del lievito chimico che sviluppa dell'anidride carbonica e quindi un gas che è importante ma utilizziamo i gas per esempio quando quando facciamo delle meringhe o quando facciamo della panna montata nelle meringhe cosa perché si fanno delle si si fa queste sono delle meringhe ma perché montiamo l'albume e poi magari aggiungiamo all'albume delle cose facciamo un soufflé oppure lo utilizziamo per fare un tiramisù è un modo per aggiungere leggerezza diciamo così quindi gas a un prodotto la stessa cosa succede quando noi non lo so facciamo una panna montata per esempio che poi utilizziamo per esempio per una mousse noi stiamo inglobando dei gas in questo caso è aria nel caso della lievitazione con il lievito istantaneo o con il lievito di birra è l'anidride carbonica ma noi utilizziamo anche altri nel quiz vi chiedevo quali tra i vari ma non lo facciamo non lo facciamo partire noi utilizziamo per esempio anche la l'ammoniaca per esempio c'è un prodotto che si chiama ammoniaca per dolce in realtà è un carbonato è un carbonato acido d'ammonio che si decompone e nella decomposizione produce dell'ammoniaca si utilizza normalmente per dei grissini o per dei cracker prodotti secchi quindi i gas sono uno un componente fondamentale che noi utilizziamo a volte c'è semplicemente l'aria quando noi come dicevo facciamo montiamo degli albumi ecco mi raccomando una cosa che la scienza spiega non mettete il sale negli albumi perché destabilizza la schiuma se non vi vengono le meringhe a casa perché a volte avete utilizzato il sale nelle ricette classiche c'è scritto di mettere ma è sbagliato quindi invece utilizzate un po' di succo di limone che diventerà bella soda bella bianca e molto molto stabile ecco prendo lo spunto dalle meringhe per l'ultimo argomento l'ultimo slide per farvi vedere appunto come una visione chimica e scientifica della cucina può permettere anche di inventarsi delle cose diverse delle nuove ricette diciamo così è una cosa che io ho cognato il nome ma me lo sono inventato io il riduzionismo gastronomico cioè il riduzionismo spero che non ci siano dei filosofi in sala che mi insultano ma il riduzionismo è un termine vuol dire vedere un oggetto un fenomeno un qualche cosa come somma delle parti io riesco a spiegare come funziona magari un organismo complicato un oggetto complicato un fenomeno complicato solamente in base al funzionamento dei suoi fondamenti nella scienza funziona benissimo la maggior parte della scienza è di tipo riduzionistico e al di fuori della scienza è visto molto male questa parola ma cosa vuol dire in gastronomia vuol dire che io non guardo solamente agli ingredienti di una ricetta ma cerco di capire che cosa fanno cioè gli aspetti funzionali quindi io posso prendere una ricetta e scomporla nelle sue componenti funzionali cioè che cosa fa che cosa e adesso vi faccio vedere un esempio pratico e la posso ricomporre utilizzando degli ingredienti diversi che sembrano diversi che però fanno delle cose o uguali o molto simili esempio le meringhe le meringhe la ricetta meringhe alla francese ricetta classica albumi più zucchero monto gli albumi aggiungo lo zucchero poi li cuocio in forno e ottengo le meringhette dal punto di vista del chimico in realtà gli albumi cosa sono il 10% di proteine e il 90% di acqua queste proteine devono denaturare cioè devono trasformarsi devono permettere di inglobare dell'aria questo lo faccio montando con una frusta anche a mano una frusta elettrica poi aggiungo dello zucchero che mi servirà poi quando li cuocio per cristallizzare perché alla fine l'acqua se ne va via tutta e rimane una struttura solida se non mettessi lo zucchero avrei una frittata d'albume non sarebbe bello non sarebbe non avremmo le meringhe poi quindi è fondamentale che queste proteine possano essere denaturate cioè trasformate da qualche nel caso delle meringhe dall'azione meccanica non devono avere non ci devono essere grassi voi sapete che se vi cade dentro un troppo tuorlo nell'albume non riuscite più a montarle bene allora io a questo punto posso fare una cosa diversa mi chiedo ma io posso fare delle meringhe un analogo delle meringhe però non utilizzando quegli ingredienti ma utilizzando delle cose che fanno la stessa cosa allora tutti noi mi è venuto in mente quando ci ho pensato ho detto ma una cosa che io vedo tutte le mattine quando vado al bar che fa una schiuma che è fatta di proteine è quando prendo il cappuccino quindi il latte fa una schiuma esattamente come quando monto gli albumi fanno una schiuma posso quindi la domanda a questo punto che mi sono posto è posso fare una sorta di meringhe di latte e a questo punto la domanda è ben posta e quindi il chimico lo scienziato si mette in moto ovviamente non posso prendere la ricetta e trasformarla se voi prendete la ricetta delle meringhe e utilizzate il latte invece degli albumi non vi viene niente perché ovviamente le proteine sono diverse la denaturazione se voi montate il latte a mano non succede niente non riuscite a farci niente tanto è vero che il cappuccino e questa è l'osservazione chiave deve venire scaldato raggiungendo una certa temperatura allora ho bisogno di prendere del latte però non ci deve essere il grasso questa è l'altra cosa fondamentale quindi il latte normale se ci provate non mi funziona però io posso prendere il latte scremato perché non voglio il grasso perché negli albumi non c'è il grasso quindi prendo il latte scremato vado a vedere l'etichetta infatti quasi zero in realtà un pochettino di grassi rimangono però sono pochi non danno fastidio devo denaturare le proteine cioè devo fare qualche cosa di analogo a quello che facevo con la montatura meccanica però con il latte non funziona la montatura meccanica quindi devo scaldare e quindi con delle prove andando a vedere in letteratura gli articoli scientifici ho scoperto che le proteine del latte che mi servono denatono circa a 80-85 gradi quindi nel mio pentolino queste sono tutte foto fatte nel mio laboratorio casalingo cioè la cucina quindi ho si vede anche c'è un termometro infilzato quindi ho scaldato il latte per un paio di minuti a 85 gradi poi l'ho messo e l'ho l'ho fatto montare l'ho aggiunto ho dovuto fare dei tentativi sono andato a tentativi per la quantità di zucchero che ne serve molto di meno che nelle meringhe normali ma perché? perché nel latte c'è già uno zucchero che è il lattosio quindi ho fatto un po' di tentativi nel libro sulla pasticceria trovate tutti i dettagli questa ottengo una schiuma molto molto delicata questa è ancora cruda quindi non è così bella soda come per gli albumi ma sono riuscito a depositarla sulla teglia l'ho messo nel forno queste sono meringhe cotte chiamiamole meringhe in realtà le ho chiamate nuvole di latte perché hanno un sapore completamente diverso e per dimostrarvi che sono veramente cotte ecco vedete le ho tolte le ho sollevate e hanno un sapore curioso una volta le ho fatte ho fatto una conferenza e mi sono fatto aiutare e qualcuno aveva preparato anche queste preparazioni le ho fatte assaggiare saranno un po' di galatine perché è il sapore delle galatine le ho chiamate nuvole di latte perché sono molto molto leggere ma si vede ecco questo è un modo è un esempio di come una visione scientifica chimica nel mio caso del cibo possa permettere anche di inventarsi delle cose diciamo diverse poi questa per carità questa non è una ricetta questa è un qualche cosa che poi un pasticcere magari prende e ci costruisce una ricetta intorno però una visione chimica della cucina in realtà è molto utile e a volte ho notato che in molti cuochi specialmente nei cuochi diciamo d'avanguardio che provano a fare delle cose un po' un po' diverse dalle ricette della tradizione fanno anche se a volte magari gli viene per caso per intuizione per esempio uno può pensare e questo per esempio è una cosa che viene fatta tantissime volte nell'industria alimentare io posso prendere a questo punto ma perché devo limitarmi a delle proteine di origine animale posso prendere delle altre proteine vegetali e fare una cosa di questo genere ed ecco che per esempio si può utilizzare l'acqua di cottura dei ceci i ceci sono ricchi di proteine si può fare anche con la soia o i fagioli però i ceci sono quelli che danno un sapore migliore e infatti le meringhe con i ceci sono una cosa che da qualche anno viene utilizzata per esempio dai vegani che non vogliono utilizzare nel latte negli albumi per fare delle meringhe in realtà sono cose che l'industria alimentare ha sviluppato da vent'anni almeno e però non sono mai uscite diciamo nella gastronomia nella cucina di tutti i giorni io direi che se che ore sono perché direi che lasciamo spazio alle domande quattro chiacchiere da questa parte sì no di là infatti avevo capito tutto ecco lì ah sì una domanda per Dario nella versione di Barney suggeriscono di mettere le cipolle in frigo prima di tagliarle per non piangere è vero? allora di trucchi per per non far piangere qui non ho portato la slide ce ne sono decine la maggior parte di questi non funzionano non funzionano cioè ci sono articoli scientifici hanno provato hanno preso dei volontari c'è quello di tenere una candela di masticarsi il prezzemolo di tutta una serie di cose il meccanismo chimico del perché ci lacrimano è che durante quando noi tagliamo la cipolla si libera quell'enzima che nel caso dell'aglio ha questi composti molto odorosi ma che non ci fanno lacrimare nel caso della cipolla invece forma dei composti volatili perché devono raggiungere i nostri occhi che sono degli acidi che poi si trasformano insomma danno questo effetto qui si chiama il fattore lacrimante lacrimogeno quindi detto questo si capisce subito cosa può funzionare e cosa no allora gli enzimi fanno avvenire delle reazioni chimiche gli enzimi sono rallentati dal freddo quindi se io prendo taglio una cipolla che è stata tenuta a temperatura ambiente l'enzima lavorerà più velocemente che una cipolla tenuta nel frigorifero o ancora meglio per esempio ogni tanto lo faccio una cipolla che è stata tenuta magari per una mezz'oretta nel freezer in modo tale che non si congeli perché se no è un disastro ma che sia molto 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 fredda però allora rallenta cioè se taglio una cipolla sola me la posso cavare ma nel libro c'è una ricetta che ho provato varie volte della zuppa di cipolla e ne devo tagliare tantissime e quindi le ho provate tutte e alla fine l'unico accorgimento che serve veramente è mettersi un paio di occhialini di quelli da piscina infatti c'è una foto che gira su internet e davvero io uso gli occhialini perché finché tagliate una cipolla ci sono questi accorgimenti va bene ma se dovete tagliarne già solo 5 o 6 non solo vi raggiungono queste sostanze ma riempite l'atmosfera della cucina per cui chiunque poi entra in cucina comincerà a lacrimare quindi però voi con gli occhialini potete andare avanti a tagliare un altro accorgimento che parzialmente può funzionare è che queste sostanze che devono essere volatili quindi vanno nell'aria però noi quindi se tagliamo per esempio cominciamo a tagliare una cipolla tagliamo in due le cipolle magari le possiamo bagnare il tagliere con un po' d'acqua e magari teniamo le cipolle fino a che non le sminuzziamo diciamo ribaltate verso il tagliere in modo tale che temporaneamente possa fermare un po' queste sostanze però veramente l'unica cosa sono gli occhialini o la maschera da sub ci si difende dalla chimica con la fisica con la fisica c'è un'altra domanda qua ma intanto ricordo che c'è un microfono anche sopra quindi se volete fare domande da su siete benvenuti prego grazie immagino che dal punto di vista chimico il materiale usato per la cottura abbia una sua importanza quindi la mia domanda era che cosa è meglio utilizzare come materiale acciaio alluminio all'antiaderente tenendo conto appunto delle reazioni chimiche che avvengono durante la cottura grazie prego allora la risposta è non esiste il materiale migliore perché dipende da quello che vogliamo fare in effetti è una cosa che ho trattato nel libro perché ci sono alcune 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 reazioni che sono facilitate da per esempio dai metalli le reazioni chimiche della reazione di Maillard se io voglio avere una bistecca che è bella non bruciata ma è bella arrostita è meglio utilizzare non una padella antiaderente ma utilizzare per esempio io uso una padella di ghisa perché in quel caso il metallo il ferro gli atomi di ferro catalizzano questa reazione e per cui se voi provate a fare un esperimento magari lo fate con il petto di pollo che così si vede visivamente che il pollo non ha questa bella crosticina come la carne bovina quindi si vede bene se voi provate a fare due esperimenti in una padella antiaderente in una padella d'acciaio in una padella non so di roccia vedete che nella padella di metallo si sviluppa di più in altri casi può essere magari invece necessario mantenere di più il calore e quindi allora magari posso usare della ceramica del coccio in altri casi ancora è meglio per esempio evitare di utilizzare in alcune preparazioni una cosa che ho scritto recentemente ho fatto anche un video per esempio se ho delle soluzioni delle cose particolarmente acide quindi classico cartoccio ma un caso classico è il sugo di pomodoro il pomodoro è molto acido è meglio non utilizzare per esempio una padella d'alluminio perché l'alluminio viene in parte intaccato dall'acidità a meno che sia stagnato che sia ricoperto però l'alluminio standard viene ricoperto e per esempio non solo quindi è meglio non utilizzarlo per delle preparazioni acide ma per esempio se noi montiamo degli albumi in una ciotola d'alluminio il colore che ottiene l'albume montato è grigiastro perché l'alluminio va a interferire con le proteine quindi la risposta è non ce n'è un migliore poi chiaramente è importante la conducibilità termica l'acciaio per esempio ha una conducibilità termica abbastanza bassa cioè fa un po' schifo da questo punto di vista certo uno non può cucinare con io non ho le padelle d'argento che sarebbe l'ideale dal punto di vista della conducibilità termica meglio ancora dell'oro il rame è un buon compromesso però il rame anche lui il rame è tossico per cui il rame lo devo stagnare quindi a seconda di quello che voglio fare dovrei avere delle padelle o delle pentole diverse poi se sbagli la reazione di Maillard anziché il rischiatutto fai il raschiatutto la tagliamo anche questo ma è vero l'uovo per le uova assolutamente io faccio la frittata con le padelle antiaderenti perché la reazione sulle uova invece è catalizzata velocissimamente e le uova sul metallo si attaccano e poi non si staccano più e si brucia un'altra domanda qui poi non so quante domande abbiamo abbiamo ancora anche una su buonasera professore una decina di amici miei ai quali io mi aggiungo come primo firmatario mi hanno chiesto di fare la seguente domanda se farà prossimamente un libro sul pesce e i crostacei me l'hanno chiesto in Dante allora prossimamente no ma prossimamente non farò nessun libro perché quest'anno non scrivo ho avuto il rigetto io ho passato le vacanze a scrivere perché dovevo consegnare il libro lo dovevo consegnare a fine giugno e sono andato lungo perché dovevo contemporaneamente fare due corsi all'università per cui ho passato luglio e agosto a cucinare a scrivere l'ho consegnato a settembre per cui sono esaurito da questo punto di vista il libro diciamo in questa collana che non so ancora quando farò ma il prossimo libro non sarà sicuramente sul pesce ma sarà su cereali e legumi cioè cereali e legumi e patate cioè gli alimenti che contengono tanto amido c'è un sacco di roba da dire su riso pasta grano sugli legumi legumi li associamo spesso alle proteine ma in realtà la maggior parte del contenuto di un legume è amido ok quindi quindi c'è un sacco di roba da dire sul pesce ecco molti me lo chiedono però mi dicono anche dalla casa editrice che i libri sul pesce non vendono e c'è un motivo perché cucinare il pesce è pesce costoso molto costoso ed è difficile da cucinare io so cioè quanti di voi sanno come cucinare cioè il tonno uno prende il tonno il pesce spada cose molto facili va bene ma uno prende il pagello prende cose un po' complicate lo scorfano è complicato è molto complicato per cui la maggior parte delle persone me incluso cioè a parte le cose molto facili io preferisco spendere i miei soldi in un ristorante vado e sono sicuro che lì lo sanno trattare meglio di quanto faccio io quindi le persone tranne che nei posti d'Italia che vivono sulle coste dove c'è una tradizione di cucina di pesce nell'interno dell'Italia non c'è una tradizione neanche di riconoscere pesci diversi cioè io se vado al supermercato a volte non riesco a riconoscere certi pesci e non saprei come cucinarli e così mi dicono la maggior parte degli italiani che quindi magari ti dicono sì ma fammi un libro sul pesce però non posso fare un libro solamente sul gambero la trota io ho vissuto a trote quando ero piccolino mio padre le pescava tutti i giorni sulle trote potrei fare mezzo libro in tutti i modi possibili trote cavedani cavedani sono pessimi da mangiare però scrivere un libro sul pesce al di là del fatto che sarebbe molto complicato perché sono molto diversi però mi dicono che non venderebbe molto però chi lo sa magari fra 4-5 anni le persone che mi seguono sono sufficientemente il numero elevato da poter pensare a scrivere un libro sul pesce dicono di asciugare leggermente le risposte lo so io sono un po' logorroico perché ci sono tante domande per esempio c'è una lassù lassù ah nell'angolo vista allora io sono un chimico però per me però per me i bignè sono una magia com'è che esattamente con la stessa ricetta lo stesso procedimento le stesse temperature tre volte vengono bene tre volte vengono frittate la farina la farina è perché la farina non è tutto uguale perché lo zucchero è sempre quello l'albume è sempre quello ma le farine hanno una quantità diversa di glutine e il bignè per venire allora il bignè è comunque difficile perché c'è una combinazione in questo caso non solo di temperature ma anche di tempi e di temperatura del forno esterna il bignè deve gonfiarsi quindi deve partire da una pastella deve gonfiarsi dentro deve rimanere cavo e non deve sgonfiarsi quindi vuol dire che nel momento in cui si gonfia il gas che si sviluppa dentro che in realtà è vapore d'acqua perché è il vapore dell'acqua che lo fa gonfiare e deve essere gonfiato molto velocemente si gonfia ma non deve scappare fuori quindi vuol dire che la struttura dell'impasto deve essere tale da mantenere dentro il più possibile il gas e questo succede se utilizziamo una farina forte cioè una farina tipo quella del pane cioè che ha un alto contenuto di glutine per cui se uno ha caso una generica farina 00 però lo 00 indica solo il grado di purificazione della farina non ci dice quanto glutine c'è dentro perché la farina 00 per torte è povera di proteine povera di glutine ha il 9% di proteine e la uso per fare una torta margherita se devo fare il pane devo utilizzare sempre magari una farina 00 anche se adesso è vista malissimo ormai nei supermercati trovo di tutto fuorché la farina 00 trovo farine di tutti i tipi ma non quelle normali comunque devo usare una farina 00 diciamo che si dice forte cioè che magari ha il 12-13% di proteine quindi tanto glutine e quindi a volte magari se si segue una ricetta e purtroppo nella maggior parte delle ricette di pasticceria tranne per le torte uno va veloce prende la farina per torte ma per fare ricette che hanno bisogno di forza particolare del glutine uno vuole fare prodotti a lunga lievitazione vuole fare il babbo vuole fare il panettone non so o appunto il bignè ha bisogno che la struttura sia in grado di mantenere il volume e poi c'è una questione di temperature deve esserci una temperatura molto ma molto elevata nel forno non troppo ma dobbiamo quasi essere vicino a bruciare tutto perché mentre si espande la parte esterna del bignè deve asciugare deve cuocere deve coagulare completamente le proteine in modo tale che rimanga bello gonfio quindi però sarei propenso a scommettere che è quasi sempre colpa della farina mi dicono di asciugare le non è colpa mia però mi dipingono così io voglio farle una domanda relativa all'ultima slide quella con le meringhe realizzate con il latte vorrei sapere se prima di infornare il composto diciamo la spuma per quanto tempo mantiene la sua consistenza 5 minuti sono veramente delicati immaginate la schiuma del cappuccino come quella fatta col sifone in pratica più o meno sì solo che nel sifone ci mette dentro un gas diverso sì sì quindi è molto delicata però il forno mi raccomando è un errore classico non fanno i cuochi di pasticcere ma molti casalinghi casalinghe fanno è infornare quando la temperatura del forno non è ancora arrivata alla temperatura giusta si inforna quando la temperatura è quella giusta non prima altrimenti succedono dei danni quindi io il forno già alla temperatura che ho scelto in forno metto nella teglia e metto dentro subito perché si deve cristallizzare la parte esterna velocemente in modo tale da mantenere poi la struttura perché è lo zucchero esterno che così come nelle meringhe mantiene la struttura grazie esattamente mi dicono che c'è una domanda lassù sono stato veloce però dai allora innanzitutto la volevo ringraziare perché grazie al suo libro sulla pasticceria riesco a spiegare meglio la pasticceria ai miei allievi oh benissimo e poi volevo chiederle dal punto di vista chimico un frutto o una verdura che vengono raccolti maturati sull'albero o sulla pianta rispetto ad una verdura che vengono raccolti a cerbie e maturano poi dopo in frigo o comunque nei mercati generali in quei grandi magazzini cambia? allora qui la risposta è complicata infatti c'è un capitolo intero del libro proprio dedicato a questo allora la risposta è come spesso succede nella scienza dipende nel senso che ci sono dei frutti che una volta staccati dal parlo frutti in modo generale perché pomodori melanzane zucchine peperoni sono frutti ma vale ovviamente anche per i frutti dolci ci sono dei frutti che una volta staccati dalla pianta non miglioreranno mai il loro sapore il loro aroma non c'è speranza quindi se voi raccogliete delle fragole che sono bianche o che sono verdastre rimarranno così rimarranno a cerbie l'uva deve essere raccolta nel momento giusto c'è una distinzione che si fa nella scienza dei vegetali tra frutti climaterici e frutti non climaterici a seconda di quello che fanno dopo la raccolta quindi se un frutto fa parte della categoria che non matura non migliora non c'è speranza altri invece possono non dico essere equivalenti a quelli raccolti nel momento della maturazione quello sarebbe da fare sempre però purtroppo non lo possiamo fare quindi un pomodoro raccolto dalla pianta quando è già maturo è sicuramente meglio di un pomodoro raccolto come spesso si fa quando è ancora verde quindi è già o meglio si sta trasformando tra il verde e il rosa però il pomodoro per esempio così come la mela può continuare la maturazione anche scatenata dall'etilene c'è tutto il meccanismo anche nelle nostre case o nei depositi questo però influenza soprattutto la consistenza cioè da duro diventa un po' morbido cambia il colore che un pomodoro lo avete un vecchio trucco proprio di prendere un pomodoro verde o una mela e metterle in un sacchetto dopo un po' il pomodoro matura perché sviluppano l'etilene che è l'ormone che scatena queste cose quindi migliora un po' la consistenza la cosa non migliorano gli aromi cioè gli aromi se non sono stati sviluppati fino a quel momento non ci sono cambia la dolcezza per cui le mele possono essere trattate in questa maniera le mele vengono raccolte anche volte in anticipo e nel periodo che passano nei magazzini possono trasformare continuare a trasformare l'amido in zucchero però attenzione che dopo un po' siccome le mele continuano a vivere consumano il loro zucchero per vivere e quindi a un certo punto perdono un po' di sapore quindi le mele le mele mangiate adesso sicuramente sono più buone delle mele raccolte e mangiate che ne so io a marzo quindi la differenza è questa ci sono gli agrumi i limoni i limoni in generale tutti gli agrumi una volta raccolti dalla pianta non migliorano più nella loro acidità nel loro grado di zuccherino l'unica cosa che fanno che a volte inganna il consumatore è che possono trasformarsi dal verde al giallo cioè sparisce la clorofilla ma non si possono cioè quando avete raccolto il limone che è verde e lo tenete a casa magari lì di fianco ha una mela o un pomodoro dopo un po' diventa giallo in realtà non è più dolce o cioè è uguale a prima perché gli agrumi una volta che li stacchiamo dalla pianta non migliorano i peperoni i peperoni non migliorano una volta anzi cominciano a a rammollire altri invece sì c'è un caso particolare che è l'avocado che invece matura solamente dopo che è stato raccolto dalla pianta sulla pianta rimane 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 così l'ananas è un altro che una volta che è stato raccolto dalla pianta è così non migliora per cui è inutile che lo tenete lì perché non matura e ce ne sono altri ce ne sono altri tantissimi c'è pieno di frutti però abbiamo solo più due domande da sopra o da sopra? da sopra hanno paura che risponda troppo lungo buonasera volevo chiedere qual è la differenza tra addensanti e gelificanti e per i processi di cui sono responsabili ah allora beh lo dice la parola stessa un gelificante produce un gel cioè una struttura che è semisolida che intrappola all'interno dell'acqua quindi se io prendo dell'albume lo metto in un pentolino lo scaldo l'albume è appunto semiliquido lo scaldo a questo punto diventa bianco e ha intrappolato al suo interno l'acqua questo è un gel normalmente i gel li facciamo per esempio con la gelatina la gelatina in cui facciamo gli aspic o la panna cotta o altre cose quindi la gelatina è una struttura proteica o si fa anche con l'agar quindi è una struttura semisolida ok io posso prenderla e mangiarla al cucchiaio gli addensanti invece fanno esattamente questo l'amido per esempio che noi aggiungiamo la fecola di patate o la fecola o la maezena che noi aggiungiamo a una cioccolata liquida quindi il latte quindi è molto liquido è poco viscosa gli addensanti non gelificano rendono solamente più viscosa la soluzione però non la rendono semisolida non sono in grado di intrappolare l'acqua e mantenerla dentro quindi quando aggiungiamo la cioccolata alla cioccolata aggiungiamo un po' di amido un po' di fecola insomma questi tipi di trucchi adesso ci sono anche altre cose servono per dare una consistenza diversa un po' come quando si fa la besciamella quando si fa la besciamella o il roux aggiungiamo degli amidi che hanno questa capacità di addensare ma non di gelificare ultima domanda buonasera allora io sono uno studente di chimica studio chimica qua vicino e volevo chiedere quando io intendo friggere o soffriggere qualcosa come conviene trattare gli argomenti ovvero conviene mettere gli ingredienti nell'olio freddo e poi scaldare tutto oppure al contrario far scaldare l'olio e poi buttare tutti gli ingredienti allora friggere e soffriggere però sono due cose diverse se io soffriggo della cipolla la temperatura la temperatura normalmente non supera praticamente mai i 100 gradi perché finché metto tanta cipolla in poco olio il rapporto tra olio e cipolla è prevalente sulla cipolla quindi c'è un sacco di acqua nei vegetali a volte l'80-90% anche di più e quindi finché l'acqua non è tutta evaporata c'è poco olio la temperatura non supera mai i 100 gradi in questo caso puoi benissimo partire l'effetto è diverso ed è uno di quei passaggi che dicevo prima nella teoria combinatoria della salsa di pomodoro partire da olio freddo cipolla e scaldata pian piano oppure partire da cipolla con olio caldo porta a risultati diversi gusti diversi devi provarle tutte e due ma non c'è il modo migliore nella frittura invece invece nella frittura abbiamo tanto olio a temperatura che deve deve assolutamente raggiungere le temperature di frittura che normalmente sono attorno ai 170-180 l'Unione Europea adesso chiede di abbassarle un po' attorno ai 170 per evitare la formazione di acrilammide per certe cose ma comunque deve essere già molto elevata e dobbiamo avere tanto olio perché nel momento in cui io aggiungo il prodotto da friggere la temperatura non deve scendere troppo infatti l'errore classico a casa è se abbiamo il braccino corto e usiamo poco poco olio io lo scaldo anche ma ci butto dentro un quintale di seppioline e la temperatura invece di essere a 170 arriva a 120 e allora a questo punto ho le patate cosa succede? succede che l'olio è troppo freddo quindi non vaporizza istantaneamente come dovrebbe l'acqua contenuta quindi se noi abbiamo l'olio da 180 gradi butto una patata questa vi diamo subito una schiuma è il vapore che esce violentemente vigorosamente dalla patata quello che fa è che se la temperatura è molto elevata il vapore si produce istantaneamente quindi mantiene una pressione elevata ed evita che l'olio entri nei buchi che lascia l'acqua quindi una frittura fatta a una temperatura costante produce un prodotto che è meno ricco di olio che non una frittura fatta a temperature inferiori perché il vapore esce più lentamente e quindi l'olio riesce a entrare più velocemente quindi per una frittura assolutamente usare un termometro usare tanto olio cuocere un po' di cose alla volta non fare l'errore di buttare tutto magari fare due o tre o tre passate però perché l'olio deve essere a temperatura grazie grazie a Dario Bressadini grazie a Piero Pianunci grazie a tutti voi ci vediamo la prossima settimana a Piero Pianunci a Piero Pianunci grazie a Piero Pianunci